E che fine faranno le chiavi che ancora custodiscono le nostre case e i nostri beni? Ne parliamo oggi con Massimo Bianchi, produttore di chiavi di Conto Industria, buongiorno. Massimiliano Di Singrini, di Confartigianato Installatori Elettrici, Monica Cirillo ancora con noi. Allora, Di Singrini, in base alla tua esperienza, le chiavi sono ancora lo strumento più utilizzato in assoluto o si preparano anche quelle a essere sostituite? Diciamo che oggi come oggi ancora la chiave meccanica è la chiave più utilizzata. Questo è il classico esempio della nostra chiave meccanica. Oggi come oggi, soprattutto nelle abitazioni private, è lo strumento più utilizzato, quindi apertura, chiusura delle porte. È chiaro che negli ultimi due, tre, quattro anni stiamo evolvendo, nel senso che ci stiamo buttando su quello che è il mercato dell'elettronica. Io qui oggi ho portato un po' di attrezzi del mestiere, come al solito, dall'impronta digitale, quindi io arrivo, devo aprire una porta, appoggio il mio dito indice sul mio pianale. Se sono autorizzato, questa porta attraverso un marchi ingegno, che è questo, l'elettroserratura, dà un assenso e comunque apre la mia porta. Oggi diciamo che soprattutto nelle aziende, poco ancora, diciamo nelle case, nelle abitazioni private, è un sistema molto utilizzato. Prima dell'impronta digitale avevamo il nostro classico beige, ok? Io arrivo, lo inserisco nella mia fessura, autorizzato e sempre attraverso comunque quello che è un sistema di elettroserratura apro la mia porta e o do accesso al varco. Quindi diciamo che nell'ultimo periodo il sistema elettronico ha preso molto piede e lo sta sempre prendendo più in futuro. Abbiamo visto le varianti del mondo delle chiavi, ma quante chiavi si producono nel mondo? Vediamo, 3 miliardi di chiavi l'anno tra chiavi di primo impianto e ricambi. Esistono 50.000 differenti tipi di chiavi. In media ne possediamo 5 a testa e ogni anno facciamo almeno un duplicato. 5 chiavi a testa non sono poche, Bianchi. Come mai ne abbiamo così tante? Se consideriamo la chiave del portone di casa, la chiave della porta di casa, la chiave della cantina, la chiave del garage, la chiave dell'auto, la chiave dell'ufficio, mediamente arriviamo ad un numero anche superiore ai 5. Qui ci ha portato diversi modelli di chiavi. Che chiavi sono? Anche colorate, vedo. Sì, perché la chiave è un oggetto anche di culto, viene tenuta in tasca e maneggiata tutto il giorno, quindi sono consumatori che, oltre al fatto di distinguere una chiave dall'altra, vogliono anche avere un oggetto che sia artistico ed esteticamente apprezzabile. La chiave normale che noi portiamo tutti i giorni è quella anche più economica. La chiave che noi chiamiamo piatta per il cilindro europeo, detta paracentrica, deriva dal famoso brevetto di Linus Yale del 1851 ed è tuttora usata. Il consumo è in aumento perché ovviamente abbiamo economia dei paesi del terzo mondo che continua ad adottare questo tipo di chiave. Oggi invece quelle sono... Ovviamente abbiamo avuto un'evoluzione sulla protezione personale della porta di casa, quindi c'è stato il primo passaggio che è ancora in uso, quello della chiave a mappa o doppia mappa. L'evoluzione successiva è stata quella, ed è tuttora in crescita, quella della chiave che chiamiamo sempre col cilindro europeo di alta sicurezza. Invece di avere un livello di spine, quindi di sicurezza, ne abbiamo due o tre su tutti i lati della chiave. Allora, eccola qui. Antonella. Prego, prego. Questo è il sistema che si sta diffondendo sempre di più perché il cilindro europeo si può sostituire anche in una porta blindata e quindi appunto sta diventando lo standard di produzione. A livello di serrature di singrini, quali ci danno la maggior garanzia di sicurezza? Beh, diciamo che oggi, come menzionava prima il collega, diciamo che quella più funzionale, quella più a livello di protezione alto è la classica serratura con il cilindro europeo che possiamo dividere in tre livelli. Quindi la classica, diciamo, serratura cilindro europeo che io ho mostrato prima in grafica, quindi è, diciamo, primo, secondo, terzo livello. Ovviamente ha la possibilità, diciamo, di essere molto più resistente, essere all'interno ovviamente contornata di acciaio, quindi di ottone, ed è diventa difficile, anche per il malintenzionato, andare a bucare comunque la serratura. È chiaro che se continuo a provarci, continuo con il trapano a tentare di bucare la mia serratura, dopo un po' è chiaro che cede, però, diciamo, ha una resistenza maggiore rispetto ai cilindri. Per montare una serratura a cilindro ci vuole comunque la porta blindata? Ci vuole comunque la porta blindata e voglio sempre spendere una parola in questa trasmissione. Non facciamo mai il fai da te in queste cose, ma affidiamoci ai professionisti, che ci sono, danno il consiglio giusto e danno sempre, ovviamente, diciamo, il meccanismo giusto per ogni appartamento, per ogni porta o serratura. Quindi affidiamoci sempre ai professionisti. Allora, vediamo quanto costa, mediamente, proteggere una casa. 1.500 euro l'impianto di antifurto, 1.300 euro per le porte blindate. Il Ministero degli Interni, tra l'altro, ci ha fornito gli ultimi dati sui furti in casa. Vediamo, lì tra gennaio e agosto 2019 ce ne sono stati 101.167, 90.000 meno rispetto all'anno precedente, al 2018. In casa si utilizza la serratura a scheda che ci ha portato di Singrini? Guardi, come le dicevo prima, nell'ultimo tempo, negli ultimi, diciamo, anni, anche le abitazioni private stanno utilizzando lo standard dell'impronta digitale. Impronta digitale che, né più né meno, come funziona? Io arrivo, appoggio il mio dito, diciamo, all'interno di questo, se così chiamato, scanner. Il mio scanner, ovviamente, all'interno ha una memoria, dove io ho precedentemente registrato il mio dito, il mio, tra virgolette, polpastrello, e tramite un sistema, un codice, diciamo, alfanumerico, riesci a riconoscere e dare un input per aprire e chiudere la porta. Consideri che oggi, con questi sistemi posso, parlavamo prima in grafica di antifurti, posso inserire, disinserire anche un antifurto. Una cosa che, ad esempio, oggi ancora sta prendendo sempre più piede, è l'utilizzo dello smartphone. Oggi, addirittura, io posso appoggiare il mio smartphone al mio lettore e aprire e chiudere la porta. Se perdo lo smartphone, è un problema, cioè, è un grosso problema. Resto fuori casa. Se invece uno ha la tradizionale chiave di casa, Monica, è la perde. Deve fare subito denuncia. Perché la domanda che ti faccio è l'assicurazione può, come dire, rifiutare il rimborso? Sì, dipende dalle clausole contrattuali, ma in ogni caso, normalmente, nelle clausole contrattuali, è previsto che in caso di smarrimento della chiave, io debba immediatamente denunciare e, ovviamente, procedere a sostituzione della serratura. Perché se così non è, cioè, se io ho smarrito la chiave non denunciato e in caso di furto, l'assicurazione potrebbe non pagare perché, teoricamente, potrebbero essere entrati attraverso la chiave che io ho perso. Mentre Dorigo vi mostra i prezzi delle chiavi in mano, io con Bianchi mi sposto dall'altra parte dello studio. Venga, Bianchi. Perché voglio parlarvi un po' del mondo delle chiavi. La vostra famiglia ha una tradizione lunghissima legata alle chiavi, Bianchi, vero? Quando avete iniziato? Nel 1770. Infatti, noi quest'anno celebriamo il 250esimo anniversario della nascita della nostra azienda. è iniziata, appunto, come officina di mastri di chiavi, tramandata di padre in figlio fino all'epoca di mio padre, che ha iniziato l'attività industriale. Una bellissima storia. Tra l'altro ci ha portato delle chiavi antiche, vero? Sì, noi abbiamo un museo aziendale che fa parte del circuito Museo Impresa. Quindi, rappresentiamo tutta la storia della chiave dagli albori. Abbiamo qui, per esempio, una chiave romanica del primo secolo. E abbiamo... Questa è una chiave veneziana del 500. Questa è una chiave altoatesina del 600. Una chiave gotica. Guardate queste chiavi che meraviglia che sono. Sono un pezzo di storia, ovviamente. Ecco, è il pezzo di storia che in questo museo delle chiavi viene custodita. Qual è invece la chiave più moderna che avete prodotto? Beh, si tratta di chiavi per auto. Cioè, come abbiamo detto prima, dobbiamo distinguere tra chiavi per porta che proteggono appunto l'abitazione, dove abbiamo, come citava il mio collega prima, le chiavi a cilindro europeo di alta sicurezza. Il gergo dei serratturieri le chiama chiavi punzonate, perché hanno appunto queste file di perni che assicurano una doppia o tripla protezione rispetto a una chiave paracentrica normale. Senta, poi ci ha portato... Vabbè, le chiavi più moderne ovviamente sono queste, quelle delle automobili, che permettono di essere aperte con un click. Eccole qui. Ci ha portato anche un duplicatore di chiavi. Come funziona? Ce lo dice? Sì, abbiamo portato i due esempi che abbiamo del top della gamma delle nostre duplicatrici. Questa è una macchina che viene usata dagli specialisti per duplicare qualsiasi tipo di chiave. Questa è una macchina particolare che abbiamo sviluppato per le forze speciali e i corpi di polizia, che permette di duplicare le medesime chiavi che fa una macchina altissime prestazioni sul luogo d'azione. Quindi noi la chiamiamo una macchina tattica, è alimentata a batteria, è portabile, pesa meno di 8 kg. E quando l'abbiamo sviluppata, una delle specifiche che c'era stata chiesta era quella di poter essere paracadutata sul luogo d'azione. E questa si può paracadutare? Esatto. Quindi questa è una macchina totalmente italiana ed è unica al mondo. Come sarà la chiave del futuro? Ultima domanda, Bianchi. Beh, l'evoluzione sarà sempre una combinazione di chiave meccanica ed elettronica. Quindi io credo nella chiave meccatronica ci sarà sicuramente uno sviluppo verso l'utilizzo dello smartphone, però sarà sempre ausiliario, non sarà sostitutivo rispetto alla chiave meccanica. Molte grazie per questo viaggio molto interessante nel mondo delle chiavi bianchi. Grazie a Monica Cirillo, al nostro disingrini, amici telespettatori, siamo arrivati alla fine. Noi ci vediamo come sempre domattina, stessa ora, stessa rete. Buona giornata, ciao.